Una vittoria importantissima dopo magari una prima parte del primo tempo in cui la casettana ha anche sofferto poi dopo l'ha gestita a Menadito praticamente. No, una vittoria che ci dà molto molto spinta per questo rascio finale perché è stata molto legittima sia nel risultato che nella prestazione. Forse inizialmente abbiamo sofferto un po' queste folate di vento che non ci permettevano in alcuni tratti addirittura di superare il centrocampo. Poi fortunatamente abbiamo trovato le giuste misure, abbiamo trovato il giusto modo per affrontare la partita in queste condizioni climatiche un po' avverse. E man mano è venuto fuori poi il vero valore, il vero carattere di questa squadra che ha voluto dare una grossa dimostrazione al campionato. Mi auguro che questa sia una settimana decisiva da come avevamo anche noi programmato. Veniamo da una prestazione in casa importante con la Sarnese che comunque è una squadra importante e non va sottovalutata anche il valore dell'avversario. È una partita giocata bene, abbiamo vinto fuori casa in maniera molto molto determinata, non rischiando ammunizioni, non rischiando quasi mai grossi interventi da parte del portiere, tranne nelle parti conclusive. Tutti i nostri attaccanti sono andati in rete, quindi solo Martone che è entrato a pochi minuti dalla fine, quindi magari per lui ci sarà spazio poi più in là. Tutti sono diventati ormai decisivi, il gruppo è molto compatto e voi potete sentire un po' dagli animi. Non si fanno trascinare da questi finti entusiasmi, ma sono concentrati sull'obiettivo e quindi mi auguro che giovedì possiamo dare un'altra grossa scossa alla classifica. Il pari con la Sarnese a noi è dispiaciuto perché in casa volevamo dare, soprattutto per quella cornice di pubblico, per i sacrifici fatti da noi, volevamo dare una svolta magari a queste che è la classifica. La prestazione non è stata così deludente, anzi noi eravamo contenti del modo in cui i giocatori avevano affrontato la gara perché affrontavamo un avversario di grosso valore. L'abbiamo costretto a non giocare mai, inutile tornare su quella partita, anche lì sono stati fatti degli errori. Magari si è ripartito da qualche errore di domenica scorsa, oggi abbiamo dato una prova molto molto forte di quella che è la nostra forza. Mi auguro che questo sia il viatico per questo rush finale determinante. Adesso, leggendo un po' dagli altri risultati che mi dicevate voi, siamo secondi in classifica. Già eravamo secondi perché a pari punti con la Sarnese eravamo in vantaggio negli scontri diretti. Le inseguitrici più vicine sono quelle che comunque già negli scontri diretti sono in svantaggio nei nostri confronti perché anche la Tourist già è stata abbattuta nel giro di andata. Quindi è vero che abbiamo dato una distanza maggiore a quella che ha le spalle, abbiamo ridotto anche un po' la distanza per quello che è la vetta. Giovedì penso che sia una giornata molto 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 importante ai fini del risultato finale perché poi ci permette di preparare bene la trasferta di Sassari e quindi giovedì è importante come forse ancora di più di tutte le altre partite perché ci deve dare poi questa spinta per gli scontri diretti che verranno. Mister, però rimane il fatto che la Casertana fuori casa in 14 gare ha totalizzato 33 punti mentre Alpinto nelle stesse 14 gare ne ha fatte, se non sbaglio, 18, pochino per una squadra che vuole vincere il campionato. Sicuramente le statistiche sono determinanti poi ai fini delle classifiche, ai fini di alcuni discorsi che si potrebbero fare però dei punti fatti fuori casa noi siamo molto orgogliosi e siamo contenti, abbiamo dato un rullino e un'impronta molto forte al campionato. Per quanto riguarda i punti fatti in casa magari siamo un po' dispiaciuti, un po' demoralizzati nelle prestazioni però noi abbiamo comunque dalla nostra la coscienza e l'animo di aver dato sempre tutto e di aver comunque cercato di portare sempre dalla nostra un risultato maggiore che era la vittoria. Noi paghiamo un po' una partenza in ritardo nei risultati quindi abbiamo giocato ogni partita per vincere anche contro delle squadre che magari hanno badato più a non perdere e quindi ci hanno creato delle difficoltà però sicuramente quello che è stato deve essere un viatico per recuperare qualche difetto fatto però alla fine si pareggiano i conti perché comunque siamo in lotta alla grande per la vittoria finale di questo campionato oggi possiamo dirlo perché noi ci crediamo, il gruppo ci ha sempre creduto quindi è vero che questi numeri che dite voi sono un po' eclatanti però conta poi il risultato finale noi adesso siamo secondi e vogliamo magari invertire un po' questo trend continuare quello in trasferta, invertire quello in casa e fare un rush finale molto molto importante un po' per tutti.